ecco, sono appena riavviato perfetto, allora chiedo se c'è qualcuno che sta leggendo o qualcuno che ha osservazione sul verbale buongiorno buongiorno allora possiamo dare il verbale per approvato va bene perfetto, allora passiamo al secondo punto all'ordine del giorno intanto ho visto che è entrata la dottoressa Maffei per la direzione socioeducativa a cui do il buongiorno sì, buongiorno buongiorno e sono entrati anche gli ospiti, almeno quelli che avevano fatto la richiesta come il CDQ di Fonte Laurentina e quindi do il buongiorno al presidente Domenico Foffo che ho visto buongiorno eccomi buongiorno Domenico buongiorno al vice presidente Michele Ambrosone e do il buongiorno che ho visto entrare adesso ad Angelo Panizza come referente di centri anziani che comunque ci fa compagnia oggi grazie a tutti per la partecipazione buongiorno nuovamente a tutti quindi ci ho detto io penso che possiamo passare al secondo punto all'ordine del giorno secondo punto all'ordine del giorno prevede scusate la ripetizione per l'appunto ehm la ehm l'esame e l'eventuale votazione della delibera iniziativa municipale avventato oggetto istituzione di un centro sociale anziani Fonte Laurentina nel municipio Noveur a firma dei consiglieri commissari della commissione quindi a firma del consigliere Pizzi Pappadà Abate Crescenzi Cagliardi Chinezzini ma i saranno Sordini Ogolini ehm ora una brevissima introduzione perché eh più o meno sappiamo tutti eh di che cosa stiamo parlando ovviamente parliamo del cosiddetto casale quindi l'immobile eh S2 esito nel eh quartiere di Fonte Laurentina immobile che eh sia da convenzione urbanistica eh sia da indirizzi e poi questa mattina diciamo sarà l'ultimo indirizzo definitivo da parte del municipio è destinato e sarà destinato a centro sociale anziani il nostro undicesimo centro sociale anziani nel territorio e eh che per l'appunto ehm prevede in prima battuta l'idea l'approvazione eh di questa di libera di istituzione da parte da parte del municipio poi ovviamente se ci sono domande anche su sui procedimenti abbiamo abbiamo il supporto dell'ufficio se i commissari eh vedono la la delibera che è caricata sul canale della commissione prima velocemente gli diamo un'occhiata anche perché ovviamente non è una delibera molto molto complessa nei contenuti allora eh nel premesso vengono ovviamente richiamati quelli che sono eh le normative relativamente ai centri sociali anziani in particolare il regolamento per i centri eh sociali anziani e eh diciamo le disposizioni normative soprattutto dello statuto eh di Roma Capitale eh vengono poi giustamente richiamati gli articoli 3 e 4 che sono quelli che definiscono eh all'interno il regolamento dei centri sociali anziani le procedure per le istituzioni i nuovi centri sociali anziani e vengono poi eh richiamate diciamo le ehm premesse ehm contenute eh nella nella stessa convenzione urbanistica eh nei considerati ovviamente anche queste vengono vengono richiamate e è importante ringrazio ce ne è anche richiamato eh diciamo i passaggi precedenti che ci sono stati nella commissione politiche sociali successivamente possiamo vedere i visti che sono poi esplicitati in in allegati a parte alla alla delibera quindi il visto della direzione socioeducativa il visto del direttore del municipio ovviamente favorevoli e arriviamo quindi al al dispositivo quindi il consiglio del municipio Romano Euro per quanto espressa e motivata in parte narrativa delibera la istituzione del centro sociale anziani fonte laurentina nel municipio Romano Euro come sopra descritto le attività del nuovo centro sociale anziani si svolgeranno nei locali dell'immobili cosiddetto casale S2 sino a Roma via Giulio viventi 23 comparte 1 torpagnotta 2 sub 2 acquisito al patrimonio del municipio 9 euro con verbale di emissione in consegna protocollo eccetera la presente deliberazione sarà trasmessa al dipartimento politiche sociali di Roma capitale per provvedere chiedo scusa allora per provvedere alla successiva ratifica della stessa della stessa da parte della giunta capitolina esenzia dell'articolo 3 del regolamento dei centri sociali anziani gli uffici dell'elezione socioducativa procederanno alla raccolta e l'iscrizione del centro sociali anziani quando sarà possibile vista la situazione di emergenza in corso e vigenti provvedimenti governativi regionali in materia il nuovo centro sociali anziani fonte laurentina sarà attivo al momento della completa solubilità dello stesso esenzia municipale con propria deliberazione quindi anche nel dispositivo diciamo sono richiamati esplicitati i passaggi successivi a questa delibera e poi vedete nelle nelle pagine successive il fondamentalmente gli atti di preso in possesso dell'immobile quindi sono allegati anche tutti quelli che sono diciamo le formalità che assicurano che il centro anziani è del municipio e quindi in qualche modo legittimano questa delibera di istituzione come detto e così come letto nel nel dispositivo una volta che questa delibera quindi sarà approvata dal consiglio municipale verrà trasmessa assieme ad altri atti al dipartimento competente che poi lo sottoporrà alla ratifica della giunta capitolina finito tutta questa prima parte quindi e soprattutto diciamo appena le misure del contro il covid in qualche modo si saranno allentate e quindi ci consentiranno l'apertura nuovamente dei centri sociali anziani il municipio poi dovrà fare una delibera per l'appunto di indizione delle elezioni quindi di prima assemblea e di elezioni e di indizione delle elezioni per votare gli organi poi interni quindi al centro sociali anziani e a quel punto poi con le elezioni diciamo il centro sociali anziani sarà formalmente e completamente costituito e quindi potrà iniziare l'attività come undicesimo centro sociali anziani del territorio dopo avervi diciamo illustrato credo di aver dimenticato niente la delibera chiedo ai commissari se ci sono delle domande intanto chiedo al comitato di quartiere se vuole intervenire ed eventualmente anche porre delle domande prego prego Domenico sì grazie presidente in attesa poi delle eventuali degli eventuali interventi dei commissari noi ci teniamo a ringraziare per aver portato all'approvazione questa delibera che è diciamo un prodotto di di un lavoro a monte molto approfondito che è iniziato anche con tutte le incombenze relative all'acquisizione del bene con il passaggio inizialmente dal consorzio d'Orpagnotta 2 che era obbligato a realizzare queste opere di urbanizzazione poi la procedura che ha visto coinvolto il dipartimento programmazione attuazione urbanistica la presa in carico del municipio che ha coinvolto l'attività sia della giunta che degli uffici quindi poi questo ulteriore passaggio che ha visto poi tutta la realizzazione di tutti gli adempimenti necessari che sono molteplici appunto relativamente a tutte le formalità amministrative e quindi io porto vorrei comunicare a tutti i commissari al presidente a tutti i commissari presenti agli uffici la nostra insomma la nostra soddisfazione il nostro apprezzamento per quanto si sta facendo e auspichiamo che venga superata questa fase emergenziale il più breve tempo possibile per poter poi formalmente dare corso alla nomina degli organi a far partire questa importante struttura nel nostro quartiere che come tutti sappiamo purtroppo è carente di centri di aggregazione quindi proprio nell'ambito di questa commissione si realizza un qualcosa molto importante per la qualità della vita dei nostri anziani nel nostro quartiere e per il quartiere tutto perché queste poi sono strutture che fanno da volano all'aggregazione della comunità grazie ancora perfetto ringrazio anche io il presidente Foffo e un po' tutti gli abitanti che in qualche modo durante questi anni non a caso parlo di anni hanno comunque ci sono comunque stati a fianco e comunque hanno supportato il lavoro rispetto a tutte le fasi quindi grazie anche da parte mia voleva intervenire la consigliera Pappadà prego no ma in realtà come dire finalmente siamo arrivati a questo punto come dicevi Ziatù Roberto che il presidente del comitato è sicuramente un traguardo che abbiamo raggiunto importante e quindi c'è poco da dire sbrighiamoci a votare questa delibera in modo che arrivi anche presto in consiglio e poi ci dobbiamo occupare di farla partire il prima possibile appena le condizioni sanitarie ci consentiranno di farlo quindi questo traguardo l'abbiamo raggiunto cerchiamo di realizzarlo poi praticamente il prima possibile nel rispetto ovviamente di quello che sarà la normativa ok grazie consigliera Pappadà aveva chiesto la parola anche il consigliere Cagliardi prego buongiorno presidente allora io ringrazio tutti ovviamente mi unisco alla alla felicità con cui approviamo finalmente questo atto l'unica cosa che mi sentivo di chiedere è se possiamo concordare con il nostro ufficio eventualmente anche col dipartimento delle modalità che possano comunque sia aiutare lo svolgimento di questa attività perché come tutti adesso sappiamo la pandemia sta limitando il settore dei centri sociali per anziani e quant'altro quindi magari possiamo data la straordinarità della situazione trovare una metodologia se non altro per far avviare il centro quindi con le lezioni dei suoi organi e le prime iscrizioni anche con delle modalità come dire all'aperto ecco magari con qualcosa che ci può permettere di dare lo start nonostante la situazione di pandemia in corso poi speriamo che fra vaccini l'estate che entra e quant'altro insomma in brevissimo tempo si possa aggiungere a una situazione non dico di normalità ma insomma di vivibilità però se così non fosse io invito tutti quanti a ragionare su questa alternativa grazie ok grazie grazie consigliere Cagliardi mi dà mi dà anche lo spunto un attimino per diciamo informare un po' tutta la commissione e anche dell'operazione diciamo di contorno se così si possono chiamare che ci sono stati durante questa libria perché purtroppo i centri sociali anziani da ordinanza comunale e ancor più salendo di livello da quelle che sono le disposizioni governativi e statali relativamente diciamo a generalmente vengono chiamati centri centri ludici no però o di attività ricreative ludiche sono fermi intesi proprio come tutti gli immobili quindi noi non credo magari ci informeremo ma sono abbastanza sicuro che neanche gli spazi esterni afferente al casale possono essere aperti per le attività inerenti ovviamente al centro sociale anziani però chiedo scusa non l'ho fatto prima me ne sono un po' scordato della foca ringrazio fortemente gli uffici la parte della direzione socioeducativa che se ne è se ne è occupata la dottoressa Maffei che è qui stamattina con noi perché per arrivare comunque a questa delibera o comunque all'interno dei processi di istituzione del centro sociale anziani sono richieste poi tutta una serie di passaggi tutta una serie di azioni che l'ufficio ha portato e sta portando diciamo in coordinamento per l'appunto con l'approvazione della delibera avanti oltre ovviamente a tutte quelle che sono diciamo quindi l'operazione per l'attivazione per le nuove voci presso tutti i vari dipartimenti competenti quindi pensiamo ad esempio solamente alle utenze presso il simu che diciamo devono essere attivate forse il termine è un po' improprio però devono essere attivate diciamo per far capire a Roma Capitale che lì abbiamo un nuovo centro e quindi tutte quelle che sono diciamo le procedure normalmente eseguite dagli altri centri devono essere in qualche modo attivate anche per questo nuovo per questo nuovo centro l'ufficio quindi diciamo si è mossa e si sta muovendo proprio per ottemperare a tutte queste a queste diciamo necessità e in più si sta muovendo anche per la parte diciamo degli arredi che da regolamento del centro social anziani spettano al municipio quindi non potendoci muovere e ringrazio nuovamente l'ufficio per questo l'obiettivo è quello di essere pronti nel senso che appena ci sarà la possibilità di aprire e quindi di procedere poi con tutta la casistica con lo strato prima non abbiamo altre cose da fare è già tutto pronto è già tutto sistemato è già tutto pensato quindi con per l'appunto il contesto pandemico però si sta si sta pensando a tutto in modo che venga immediatamente immediatamente attivato il centro anziani con tutte le operazioni appena possibile senza dover aspettare nuovamente nuove procedure nuove nuovi accorgimenti quindi su questo diciamo siamo d'accordo in modo che possiamo immediatamente attivarlo detto ciò aveva chiesto la parola il consigliere Crescensi prego grazie presidente ma si rapidissimo anche perché in parte mi ha mi ha alla fine anticipato nel senso che mi premeva innanzitutto salutare e ringraziare la dottoressa Maffei che non vediamo purtroppo almeno io non la vedo dall'inizio del periodo di emergenza sanitaria quindi sarà più di un anno ormai e volevo quindi anche ringraziare la dottoressa per il supporto che ha dato alla commissione in questo contesto in questo frangente dopodiché sì insomma vedremo come riuscire a riavviare a far ripartire come si potranno far ripartire in sicurezza poi tutte le attività dei centri anziani vediamo casomai con questo con questo green pass che mi pare sia stato insomma approvato e anche in qualche misura forse acclamato da un po' tutti i paesi europei e magari attraverso un meccanismo appunto del green pass si riuscirà a riaprire in sicurezza in particolare viste le fasce d'età che mediamente lo frequentano e quindi diciamoci bocca al lupo colleghi che vi devo dire spieghiamo bene però insomma ci siamo impegnati fino adesso continueremo a impegnarci grazie ok grazie grazie consigliere crescenzi non vedo altre prenotazioni da parte dei commissari ok allora se non ci sono altri interventi io chiedo solamente all'ufficio se vuole aggiungere qualcosa rispetto a quanto già detto sì allora posso prego prego dottoressa sì sì io semplicemente confermo quello che già è esposto il presidente della commissione Roberto Pizzi quindi la delibera come avete visto è molto semplice lineare e quindi farà i passaggi adesso che deve fare per cui dopo l'approvazione da parte del consiglio municipale verrà subito tempestivamente inoltrata per la ratifica dell'aggiunta capitolina come ci dice il regolamento e confermo quindi che nel contempo ci stiamo muovendo sugli altri fronti appunto sul fatto di poter rendere fruibile il centro il prima possibile e quindi sono stati già allertati diciamo così dipartimento simu e centrale unica degli appalti appunto per procedere poi dopo con l'attivazione delle utenze e stiamo pensando anche appunto al discorso degli arredi e all'appalto delle pulizie quindi stiamo improntando una nota ad entrambi i dipartimenti simu e centrale unica degli appalti ciascuno per la propria competenza appunto per andare avanti su questi altri discorsi quindi mentre la delibera farà il suo iter parallelamente gli uffici noi ci stiamo muovendo su questi altri fronti non mi sembra che c'è altro da aggiungere tranne che appunto vediamo l'andamento sempre della situazione emergenziale perché poi ci sarà la fase della raccolta delle iscrizioni e poi la quando sarà possibile l'elezione che è da fare in tutti i centri anziani dove appunto ci sarà un'altra delibera di consiglio municipale che darà l'avvio alle elezioni e quindi mi sembra che abbastanza tutto sotto controllo grazie a tutti voi e sempre gli uffici a disposizione per qualunque necessità grazie presidente Pizzi ok grazie grazie a te dottoressa Maffei una piccolissima cosa perché due piccolissime cose perché mi sono diciamo nelle sporle mi sono un po' un po' scordate potrebbe la prima è che potrebbe sembrare anche un po' strano rispetto a quanto ho detto per l'appunto che come ha detto la dottoressa Maffei si sta giustamente ha utilizzato quello che viene definito in inglese il present continuous si sta predisponendo le note per l'attivazione al simo eccetera eccetera non è diciamo un errore o una mancanza di attenzione bensì la procedura prevede proprio che la nota diciamo di richiesta di attivazione dell'utenza presso il simo presso la centrale unica di acquisti avvenga in contemporaneo comunque successivamente all'approvazione della delibera da parte del municipio perché ovviamente quella richiesta deve essere giustificata da diciamo una volontà politica da un indirizzo che viene dato per l'appunto attraverso l'approvazione della delibera e quindi sono passaggi che devono avventire in simultanea o comunque dopo l'approvazione della delibera stessa questo era il primo aspetto che volevo sottolineare il secondo aspetto è che poi ovviamente ma lo dico più ai commissari diciamo è più un discorso di procedura magari valutiamo visto che poi noi abbiamo praticamente tutti i centri anziani che devono rinnovare gli organi i propri organi direttivi valutiamo non so neanche a livello di procedura se è ammissibile o meno una cosa del genere però di fare un'unica delibera in cui rimandiamo tutti i centri anziani diciamo quelli già esistenti a votazione secondo le delibere più la nuova votazione del nuovo centro anziani di fonte laurentina però questa è più che altro una cosa procedurale una preoccupazione procedurale che magari baglierò e comunque diciamo ce ne l'attenzione veremo più avanti nel momento della delibera di indizione delle elezioni Presidente posso intervenire prego facciamo intervenire Angelo Benizza come referente dei centri sociali anziani del nuovo municipio buongiorno a tutti buongiorno Presidente buongiorno a Dottoressa Mappei che ci siamo sentiti buongiorno sì salve buongiorno no li volevo dire Presidente forse è sfuggita qualche cosa che forse è di importanza perché se noi apriamo i centri il nuovo centro avrà bisogno di una planimetria dove descriva i locali e la gente che può frequentare il centro sì 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 certo ecco esatto questa bisogna farla subito perché altrimenti se no nella riapertura se ci sarà questo green pass per tutti poi quella è una delibera che dovrà fare il comune che ci dirà come ci dobbiamo comportare altrimenti succederà un disastro perché la gente dice adesso i centri sono aperti io voglio entrare allo stesso c'è molti molti ottantenni che purtroppo non hanno fatto la vaccinazione allora questa cosa qua aggiunta alla capienza che devono avere i centri per ogni sala bisogna rispettare quella planimetria che abbiamo già fatto tutti i centri mancava normalmente il nuovo centro perché eravamo impossibilitati per farli fare questa cosa qua ecco io direi presidente se è possibile avvertire gli uffici tecnici per fare questa planimetria perché nel caso delle riaperture è la prima cosa che hanno bisogno loro per poter recuperare intanto già siamo un passo avanti perché insomma ecco la cosa si sta muovendo abbastanza bene certo l'utenze e quanto riguarda il comune di Roma voi sapete meglio di noi quello che ci aspetta insomma o il tempo che bisogna aspettare nel frattempo li volevo dire a proposito dei centri ci sono sette centri che non ci avranno più il presidente perché quelli sono già hanno fatto il secondo mandato non si possono candidare per il prossimo mandato perciò le votazioni saranno per tutti per quello che almeno hanno detto che saranno per tutti in un no in un giorno in vari giorni però tutti nello stesso tempo così nel modo la prossima volta che i mandati scadano scadano per tutti uguali senza fare uno sì uno no uno in cinque mesi un altro dopo un anno e queste cose qua così ecco questo volevo dirlo così almeno per tutte le cose che avete preparato manca questa forse è meglio averla fin quando ritorna la delibera da Roma Capitale grazie grazie ad Angelo Panizza voleva intervenire immagino risposta su questo l'ufficio prego dottoressa Maffei sì volevo dire che la nostra P.O. dell'ufficio tecnico l'ingegnere Daniele Origlia già sa tutto e quindi ha gli elaborati la planimetria e quant'altro quindi già ce lo siamo detto che ci avrebbe fornito la capienza massima come ha fatto appunto l'anno scorso per gli altri centri quindi insomma la parte tecnica pure è informata l'ingegnere Origlia lavoriamo insieme su questo per cui sicuramente fornirà i dati che servono tra l'altro appunto dobbiamo distinguere tra la capienza come sarebbe diciamo così in tempi normali e la capienza massima da protocolli covid quindi è una una cosa attenzionata da parte nostra dica dica no li volevo dire che noi il 27 siccome abbiamo un incontro col direttore lo so lo so allora forse in quell'occasione capiremo pure noi perché è pur vero che noi abbiamo la capienza della gente che deve entrare però non sappiamo se quella è stata fatta in funzione del coronavirus o se quella è la capienza massima che non possiamo avere nei centri anziani perché pure questo fa parte di una delle nuove disposizioni per esempio per la sicurezza la sicurezza perché se per l'anno i vigi non dico i vigi adesso per dire i vigi del fuoco perché sono loro che misurano la capienza dei locali per la quantità della gente che deve entrare se quella è la capienza massima per sempre cioè nel senso che non è stata fatta questa in occasione del coronavirus non so se mi sono spiegato bene comunque questa è la cosa che noi dovremmo chiarire pure con gli uffici tecnici che sicuramente settimana insomma io posso chiedere all'ingegnere Origlia che si ricorda per favore che aveva fornito i dati quindi su questo ci possiamo chiarire assolutamente tranquillità che lo chiederò magari per la riunione del 27 magari sappiamo dare anche questa informazione va bene è una informazione importante grazie dottoressa va bene certo ok grazie volevo giusto ricordare che fortunatamente diciamo il vantaggio di di questo diciamo costituente centro è che per l'appunto è nuovo e quindi contrariamente magari anche a centri anziani sul nostro territorio un po' più vecchiotti che avevano planimetrie diciamo magari non aggiornatissime o comunque incomplete sicuramente il vantaggio di questo è che abbiamo tutti i documenti freschi passatemi il termine nuovi e quindi già precisi e puntuali tra l'altro la diciamo il lavoro e anche l'attivazione del lavoro ovviamente spinta da dottoressa Maffei presso l'ufficio tecnico c'è stato c'è c'è tutt'oggi ed è testimoniato anche dal fatto che comunque si è voluto allegare il verbale dimissione in possesso alla delibera stessa proprio diciamo in testimonianza della perfezione passatevi il termine delle procedure anche tecniche che ci sono state rispetto a questo casale detto ciò io avevo visto prima io sono stato il promotore di fare questa cosa qua proprio per questo motivo perché noi avevamo i centri senza una planificazione io fortunatamente avevo la capienza per quanto sono grandi i centri i metri quadrati insomma io le avevo date al vecchio direttore prima che andava via questa cosa qua ho detto però manca una planificazione giustamente poi abbiamo provveduto Coriglia per fare questa cosa qua e ne siamo stati contentissimi per il semplice fatto che tante volte siccome c'è nel regolamento di centri anziani che con una testa di un altro centro uno può entrare in qualunque centro del comune di Roma però quando il centro è pieno il presidente che era proposto in quella in quella serata non poteva far entrare le altre persone allora doveva avere una motivazione diceva come sono entrati centri entreranno pure centocinquanta ecco perché è stato portato pure questa perché era una norma che esiste che ne esiste per la quantità della gente che deve essere nei locali pubblici e nel caso il nostro in un'occasione di una festa in un'occasione di un pranzo sapevamo finalmente quante persone potevamo mettere nel centro comunque è stata una cosa veramente fatta bene fatta bene io ringrazio l'ufficio tecnico perché si sono mossi appena arrivato questo nuovo ingegnere insomma appena abbiamo proposto questa cosa qua sono venuti subito gli architetti hanno preso le misure e ci hanno dato queste planimetrie che noi abbiamo attaccato in tutti i centri per far capire la gente che non è il comitato di gestione o il presidente che non fa entrare una persona è la norma di legge che la capienza dei centri deve essere fatta in un certo modo ecco io la ringrazio ancora il presidente ringrazio la dottoressa Maffei che è sempre solerte per queste cose qua sì sì è un dovere ci aiuta sempre ci mancherebbe no no bisogna ringraziare le persone veramente perché dottoressa Maffei diciamo la verità fino adesso noi siamo andati avanti come una barca senza dimone il municipio nostro anzi è molto avanzato rispetto agli altri centri nel Comune di Roma però cerchiamo insomma di fare il meglio possibile per la tutela sia chi opera e sia delle gente che devono che devono venire a passare il tempo al centro perché se non troveremo per esempio ripeto ancora questo benedetto Green Pass o il certificato che dobbiamo avere e se una delibera che farà il Comune non metterà chi deve entrare e chi non deve entrare saremo in mezzo a una non una pandemia una pandemia di gridi e di urla perché tutti normalmente dicono io sono vecchio io ho la destra e devo entrare grazie ancora ok grazie 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 a lei a Angelo Panezza e a dottoressa Maffei per le risposte piccolissima cosa poi non avevo capito ho visto che si era prenotato il consigliere Maisano non ho capito se ha rinunciato o voleva intervenire comunque anche sul discorso delle elezioni sì nella nuova delibera saranno saranno tutti insieme ma anche perché noi in verità rinnovavamo otto centri e poi due a parte che erano Vitini e Colle di Mezzo ma perché per varie diciamo dinamiche durante gli anni c'era stato questo scollamento rispetto ai tempi delle elezioni purtroppo siamo stati oltre un anno chiusi quindi noi avremmo dovuto rinnovare gli otto centri nel 2020 per poi rinnovare gli altri due l'anno successivo quest'anno visto che siamo stati due anni chiusi possiamo dire alla fine gioco forza vengono raggruppati tutti in un'unica in un'unica tranche e così si riunificheremo anche diciamo i tempi elettivi di tutti gli organi stante il fatto che comunque durante i procedimenti questo era quello che era successo credo nel passato ci potrebbero essere delle decadenze o qualche motivo che comporta l'anticipazione delle elezioni faccio il caso nel caso di impossibilità del presidente o del vicepresidente nel caso della dimissione di troppi consiglieri diciamo tali da non poter essere sopperiti con i consiglieri diciamo sostituti in attesa e quindi per diversi modifici potrebbe essere comunque nel corso del tempo diciamo una differenziazione rispetto al rinnovo delle cariche elettive insieme al centro anziani per questi motivi e questi erano i motivi credo se ricordo bene che avevano poi portato diciamo alla dissonanza tra il rinnovo di otto centri e poi altri due questo volevo dire chiedo di nuovo al consigliere Maisano se voleva intervenire sì presidente grazie purtroppo mi si era scollegato e quindi si era abbassata la mano in automatico e beh molto semplicemente e velocemente volevo solo ringraziare gli ospiti presenti CDQ coordinatori uffici e commissione tutta per insomma essere stati molto proattivi in questo senso mi spiace purtroppo la burocrazia capisco che può essere pesante e fallungare i tempi che purtroppo sono spiacevoli però purtroppo ci vuole e quindi ci hanno dovuto tenere però sono sicuro che la dottoressa Maffei che saluto dopo tanto tempo che non vedo sarà molto solerte come suo solito e farà il possibile per portare a casa il risultato finale quanto prima grazie a tutti grazie grazie a voi grazie a tutti i consiglieri specie con quelli con cui ci incontravamo di più per motivi d'ufficio ovviamente grazie a tutti a disposizione come sempre grazie sì grazie poi sulla ringaggine burocratica e amministrativa dei tempi del casale potremmo magari quando ci rivedremo tutti insieme anche farci due chiacchiere perché ci sono stati e penso lo sapete un po' tutti diverse diverse criticità non da ultima proprio dopo l'acquisizione temporanea in verità c'era stato il furto anche di una caldaia quindi diverse problematiche tecniche ovviamente avevano allungato però finalmente siamo siamo in dirittura d'arrivo allora consiglieri detto ciò io non vedo altri interventi quindi per l'appunto se non ce ne sono io passerei metterei in votazione chiedo scusa la delibera all'ordine del giorno procediamo con l'appello non vedo ulteriori interventi quindi prego possiamo procedere con l'appello per la votazione Pizzi Roberto favorevole Abate Domenico favorevole Crescenzi Marco Maria favorevole Gagliardi Manuel favorevole Gimizzini Gaetano favorevole Maisano Vincenzo favorevole Pappata Claudia favorevole Gordini Simone favorevole Bucolini Rosalba favorevole benissimo la commissione attiva con parere favorevole all'unanimità perfetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti sia del della commissione di oggi ma un po' di tutto il procedimento che ci ha portato alla commissione odierna e quindi poi lo dico anche con gli ospiti interessati sicuramente ci risentiremo appena verrà calendarizzata la delibera in consiglio diciamo per il voto definitivo da parte del municipio con poi tutto l'iter che abbiamo illustrato prima ok grazie a tutti prego grazie a Milo voleva intervenire il presidente del comitato di quartiere prego sì grazie presidente soltanto ecco per chiudere chiudere la nostra partecipazione sia mia che del vicepresidente Ambrosone ovviamente rappresentanza di tutti i cittadini del quartiere ringraziamo tutti ringraziamo lei presidente tutti i consiglieri che hanno approvato all'unaminità questa fondamentale delibera il lavoro fatto dagli uffici fatto e da fare come come è emerso nella discussione quindi vi auguriamo buon lavoro e restiamo in attesa degli iter successivi e restiamo sempre a disposizione come sempre per qualsiasi esigenza dovesse sopravvenire grazie ancora e buona giornata grazie grazie a voi e buona giornata a tutti grazie mille ok allora attendiamo anche un attimino che gli ospiti escono arrivederci chiudo anche io ok grazie grazie perfetto allora possiamo quindi poi passare al al secondo punto all'ordine del giorno allora intanto buongiorno a tutti esatto ho messo e do il buongiorno a Rosaria De Vitis che è qui con noi Roberto il terzo punto chiedo sia il terzo punto chiedo scusa mi muto sì sì il terzo punto perfettamente ragione allora chiedo scusa il terzo punto a questo punto era previsto per le 9 per le 10 chiedo scusa sono le 9 e 58 chiedo alla commissione vogliamo fare 5 minuti proprio 5 minuti di pausa in modo che arrivano le 10 ci diamo tempo anche chi magari era interessato al punto di collegarsi sì mi sembra corretto Presidente ma Roberto scusami quindi chi erano gli invitati perché io non ho ricevuto l'allegata no gli invitati gli invitati erano solamente diciamo la consulta poi avrei voluto invitare anche l'assessore ma non era disponibile oggi per impegni personali già già complicati quindi solo la consulta come detto prima e come diciamo concordato nella commissione precedente io ho tentato di invitare o comunque di avere anche un contatto con gli organi della regione Lazio ho scritto una mail proprio al durante neanche al termine della commissione della commissione scorsa e ho provato a chiamare i numeri presenti sui siti della segreteria ma non ho ricevuto in entrambi i casi risposta quindi come concordato la settimana scorsa ho comunque ricalendarizzato l'atto la risoluzione l'esame e l'eventuale votazione della risoluzione con diciamo la premessa che continuerò ovviamente perché così c'eravamo detti anche l'altra volta continuerò a chiedere continuerò a insistere continuerò a mandare email per cercare di invitare gli organi della regione Lazio competenti in commissione in modo di arricchire la discussione ma ripeto oggi non ho ricevuto proprio risposta quindi riprendiamo l'impegno di rifarlo perché sì 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 no ma io la scorsa settimana sono stato un po' un picchio nel senso che ho telefonato non dico quotidianamente ma quasi agli uffici questa settimana farò la stessa cosa proprio stamattina adesso rimanderò un ulteriore email risposta a quella precedente no altrimenti si fa l'invito ufficiale comunque a prescindere sì io quindi non è stato inviato dico oggi non è che è stato inviato l'invito ufficiale no non è stato inviato non è stato inviato perché diciamo anche memore di 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 miei errori poi sicuramente negli anni precedenti io preferisco sempre evitare di fare una convocazione in cui non arriveranno gli ospiti no no ma è giusto ce l'avevamo detti cerchiamo di rispondere in base alle disponibilità in modo da avere così però siccome appunto oggi si ritratta lo stesso lo stesso argomento eh volevo capire se se l'invito l'avevi mandato comunque ufficialmente oppure no no ripeto ufficialmente no proprio per per questa aspettiamo la disponibilità se se sicuramente diciamo nella nella prossima commissione ancora non riceverò risposta manderò comunque l'invito ufficiale ehm sperando che 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 venga raccolto ho i miei dubbi ma eh ovviamente procederemo procederemo così anche perché poi questa è stata la la volontà eh diciamo della commissione quindi io mi adeguo a alle proposte e e alle azioni espresse in in questa commissione quindi eh ritornando un attimo indietro signori vogliamo fare cinque minuti di pausa proprio cinque minuti contati il tempo di un caffè veloce in modo che aspettiamo tutti gli ospiti se volete si interrompo la registrazione ok allora ci rivediamo alle dieci che vorrebbero entrare quindi mi sembra giusto ok allora ci rivediamo alle dieci e sei va bene alle dieci e sei ripriamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti